a prenderla all'aeroporto. Arrivai nell'aeroporto di Fiumicino che era buio. La mia ex moglie se ne stava nella sala d'attesa raggomitolata nel suo giaccone, chiusa in sé stessa e taciturna. È assai raro che io perda la calma. E se mi accade vuol dire che mi hanno proprio tirato per i capelli. Ma in meno di due minuti la mia ex moglie mi aveva fatto perdere completamente le staffe. Accanto alle sue valigie posate per terra lei ed io ci scambiamo parole di fuoco. Mi pentì di esserla andata a prenderla all'aeroporto, pur essendo separati da tanto tempo. Non potevi arrivare prima o perlomeno avvisarmi che tardavi, disse mia moglie. Sono andato a portare mia madre per le analisi. Sei il solito Puzzucupu, disse mia moglie. Nel nostro dialetto Puzzucupu significa pozzo profondo e indica un individuo criptico che non sa colloquiare con gli altri. Scusa, posso dirti una parola di sì ad un tratto colpito da un colpo di sentire. Non mi importa niente che da sempre mi chiami Puzzucupu. Anche se il nostro matrimonio è finito da tempo, io ti voglio ancora bene. Sul viso della mia ex moglie apparve un'espressione di trionfo. Ma non come donna o moglie, aggiunzi, come sorella e fratello.